Cinque arresti per estorsione, tentata estorsione, furto, detenzione e porto di pistola. Tutto aggravato dal metodo mafioso e il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato di Foggia che ha dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. I capi accusatori riguardano due episodi estorsivi, uno tentato e uno consumato e un assalto ad uno sportello automatico di una banca. La vicenda ha avuto origine a Stornara a seguito di una serie di gravi atti intimidatori perpetrati ai danni di un imprenditore locale a cui è stata richiesta una somma di denaro a titolo estorsivo accompagnata dall'invito a prendere contatti con i cosiddetti amici di Stornara. Nel corso della telefonata con cui è stata effettuata la richiesta estorsiva sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco accrescendo la valenza intimidatoria della minaccia. Per vincere le resistenze dell'imprenditore e costringerlo a pagare gli indagati avrebbero posto in essere ulteriori e più gravi atti intimidatori. Prima all'interno dell'autovettura utilizzata dalla vittima è stata fatta trovare una testa di maiale mozzata. Poi la stessa auto è stata data alle fiamme e infine nella buca delle lettere della famiglia della vittima è stata depositata una busta contenente tre proiettili. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Foggia hanno fin da subito orientato i sospetti verso un noto clan locale, già in passato oggetto di condanne per reati quali estorsione ed usura aggravati dal metodo mafioso. Inoltre sono emersi gravi indizi del coinvolgimento del gruppo criminale in un assalto allo sportello automatico della filiale di Casa al Vecchio di Puglia della Banca Popolare di Bari, avvenuto in data 4 settembre 2019 che fruttò agli assalitori la somma di 15.000 euro e fu realizzato attraverso l'utilizzo di un ordigno esplosivo.